Mi trovo sul palco dell'oratorio di Ponte Nossa sotto il nostro tendone. Su questo palco è andato in scena per ben due volte in quest'estate Air Spray, questo musical che i nostri ragazzi, adolescenti, giovani e non solo giovani hanno messo in scena e che adesso desideriamo portare fuori dal nostro oratorio. Infatti giovedì 12 ottobre alle 20.45 saremo sul palco dell'auditorium del seminario di Bergamo in occasione della festa di Papa Giovanni. Sappiamo infatti come il seminario non solo sia stato voluto da Papa Giovanni ma anche intitolato, dedicato a questo nostro grande Papa bergamasco la cui memoria appunto ricorre ogni anno l'11 ottobre, quindi domani stesso. Sarà un'occasione per mettere in scena questo musical che ha la sua ispirazione in un film del 1988, trasformato poi in musical dal 2002 fino al 2009 è andato in scena per migliaia di repliche a Broadway in America e che noi abbiamo un po' riadattato, ripreso e che adesso vogliamo ancora riproporre non solo alle persone, agli abitanti di Ponte Nossa o Limitrofi ma anche a tutte le parrocchie della diocesi proprio perché invitati dal seminario per proporre questo musical a tutte le parrocchie, a tutti gli oratori e non solo quindi a tutti coloro che vorranno partecipare. Le persone coinvolte sul palcoscenico sono tante sono circa una cinquantina ma la cosa bella è vedere queste diverse fasce d'età collaborare insieme, unirsi insieme, unire le forze soprattutto le capacità per dare vita a questo musical che è a tratti riflessivo, a tratti divertente e che vuole mettere in scena anche le diversità delle persone la cosa bella anche è che è tutto dal vivo quindi non solo il canto, proprio perché è un musical ma la musica stessa, quindi anche la band è dal vivo e sicuramente l'insieme di musica, di canto, di colori, di azioni dà sempre una bella emozione un'emozione, coserei dire, come da prima volta che si gusta questo musical quindi davvero l'invito è aperto a tutte le parrocchie a tutti gli oratori, ragazzi, adolescenti, giovani le famiglie stesse a partecipare l'ingresso è libero non mi resta che darvi appuntamento a giovedì alle 20.45 in seminario con Airspray